bentornati vediamo insieme i passaggi per la tecnica definita separazione delle frequenze una tecnica molto utilizzata per il ritocco della pelle del viso cominciamo selezionando il nostro livello sfondo e facciamone due copie ne chiameremo una luce e l'altra texture a questo punto chiudiamo la prima selezioniamo il livello luce e andiamo a sfocarlo scegliamo controllo sfoca io mi attesto su un raggio intorno a 10 a questo punto selezioniamo il secondo livello quello della texture lo rendiamo attivo e andiamo a selezionare immagine applica immagine qui scegliamo modalità sottrai questi sono numerini magici ricordateveli impostateli così e rimarranno impostati e lasciateli sempre così perché si usano sempre così e vanno sempre bene è un numerino magico ricavato da non so quale guru ma vi assicuro che funziona andiamo a selezionare il livello giusto ovvero noi vogliamo sottrarre dal livello luce e gli diciamo ok quello che abbiamo ottenuto sono questi due livelli al momento però non sono esattamente quello che avevamo in mente giusto se noi però andiamo ad applicare metodo di fusione luce lineare vedete che abbiamo ottenuto l'immagine di partenza possiamo esserne assolutamente certi perché se andiamo a tenere premuto il tasto alt e cliccare sulla visibilità del livello di sfondo vedete che non cambia niente per cui l'operazione è stata eseguita in modo corretto a questo punto si può andare a lavorare questi due livelli separatamente agendo sulle luci e sulle ombre se voi doveste essere pigri come me e non aver voglia di farvi tutto questo procedimento ogni volta in allegato metto questa simpaticissima azione di photoshop che vi porta automaticamente a questo punto andate a scaricarvela grazie grazie